contro di me paolo oltre ad essere stato il grande capitano del napoli è un grande campione di calcio è quello che è mancato il vocalis perché è un fenomeno di intrattenimento 10 paolo se lo lasci qua da solo ti giuro ti tiene su una giornata intera ma veramente con il palo io non posso arrivare a livelli perché sei veramente uno spettacolo altomare così mettiamo in difficoltà gli avversari per favore anche in curva abbiamo visto diverse volte in curva che lui grande campione è un grandissimo tifoso del napole assolutamente da sempre laudate nel sangue proprio paolo c'è una domanda che ci facciamo già tutti oggi tutta tifoso del napole dai giocatore capitano eccetera ma sta notizia che è arrivato il nuovo allenatore credo adesso che mi hanno fatto più domande a me su Ludicanzia che a Ludicanzia stessi dai io ti ho visto oggi dai velocemente allora è un allenatore molto affermato di un'esperienza internazionale sicuramente da tanti minuti di vista siamo già in buono grande paolo se siete qui un applauso grande capitano nostro paolo cannavaro poto poter girare tempo poter tempo grazie a tutti grazie a tutti